Attività ospedaliera condizionata negativamente e lavori assegnati a febbraio e mai iniziati. Il continuo rinvio delle opere di ristrutturazione di uno stabile dell'ospedale di Francavilla Fontana per la realizzazione di ambulatori per la libera professione hanno così portato il consigliere regionale Oprevio Curto a presentare ufficialmente una interrogazione urgente indirizzata all'assessore regionale della salute Ettore Attolini, al presidente del consiglio regionale della Puglia in Trona e al presidente della regione Nichi Vendola, proprio in riferimento al disagio creatosi in seguito alla vicenda che vede protagonista anche il direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Brindisi, Paola Cianamea, la quale, scrive Curto, avrebbe garantito e non è dato sapere sulla scorta di quali presupposti il pressoché immediato avvio negli stessi lavori. Queste dichiarazioni, aggiunge, non tranquillizzano affatto in quanto sarebbe stato opportuno conoscere nel dettaglio se siano state superate o meno le cause che hanno originato tali situazioni e che non possono essere ricondotte alla presentazione di due perizie di variante, la prima presentata dall'impresa Cogit, assegnataria dell'appalto per i lavori di ristrutturazione di tutto l'ospedale di Francavilla, la seconda invece per il raggruppamento di impresa Cogit Carparelli, ai quali è stato assegnato l'appalto per i lavori di ristrutturazione delle aree interne di alcuni reparti. A non essere chiare per Curto, sarebbero le motivazioni della bocciatura di una prima perizia ripresentata, poi riveduta e corretta. A questo punto le richieste di Curto in riferimento all'interrogazione riguarderebbero la situazione in cui versano gli ambienti e la tempistica per la realizzazione dei lavori di entrambe le assegnazioni, tutte motivazioni che hanno portato ai ritardi e conseguenti responsabilità nelle assegnazioni con addirittura costi maggiori. Infine, nella stessa interrogazione, Curto conclude chiedendo quali conseguenze ai doneri saranno attribuiti ai responsabili dell'assegnazione all'appalto, anche in riferimento al tempo trascorso che a questo punto supera addirittura gli 11 mesi e quali saranno le iniziative che l'assessorato di competenza attiverà per venire incontro a tutte queste problematiche. Non resta quindi che attendere una risposta dei vertici regionali coinvolti.